Parliamo un po' degli acuti, se li pare, che sempre preoccupa i giovani studenti e non tanto i giovani. Lei come li fa? Allora, cercando di non... allora ovviamente c'è sempre la famosa massa d'aria e l'appoggio qua dietro, ovviamente l'appoggio in tutti i sensi. Per me gli acuti, io ho un modo per visualizzarli, ovviamente ci deve essere il supporto del fiato costante, non ci devono essere ostacoli muscolari di tensione, ovviamente quando si fa un acuto la tensione arriva, invece in quel momento lì mentalmente è il momento dove ci si dovrebbe rilassare di più, dove bisogna dimenticare le paure e tenere la gola aperta. Ognuno poi ha la sua visualizzazione dell'acuto. Tanti mi dicono sai perché io lo faccio in camerino e viene perfetto, poi quando vado in palcoscenico non mi viene più. Allora se viene in camerino cosa succede? Perché non viene in palcoscenico? Perché interviene il blocco della paura, il blocco muscolare, il blocco mentale che ci impedisce di essere obiettivi in quel momento lì e di essere... di pensare a quello che si deve fare. Si vede tutto nero e non si capisce più niente. Infatti il classica frase è ho perso la testa, non sapevo cosa stavo facendo. Invece in quel momento lì bisogna assolutamente... quando si studia bisogna focalizzare perché questo acuto mi è venuto, cosa ho fatto, perché si è venuto bene. Ognuno ha il suo modo di visualizzare. Ho fatto questo bene per renderlo sicuro che cosa posso fare? Mi esercito e vedo che facendolo in questo modo io ottengo sempre un ottimo risultato. Questo poi va portato in... quando si fanno le prove, in scena e va riprodotto. Cioè bisogna trovare quella condizione mentale in cui un posto sicuro nella propria mente dove si sa in quel momento non esiste il pubblico, non esiste il direttore, non esiste niente. Sono io con la mia consapevolezza tecnica di fare la cosa giusta e convinto che verrà fuori quello che voglio io. Non farsi bloccare dalla dalla mente perché... di solito quando si hanno degli acuti difficili si pensa solo a quello per tutta l'opera. In Cenerentola si pensa al sì finale, tutta l'opera si penserà come verrà il mio sì finale del rondò. Ecco questo è... oppure i tenori hanno altri. Ognuno ha il suo punto critico e uno non è che pensa solo come verrà. Mi stanco, mi sto stancando, sto facendo giusto. Questo ovviamente è la pratica e l'allenamento. Ma ovviamente creare la propria scatola mentale dove si sa che l'acuto è là e verrà sempre. Bisogna sapere che quando si è preparati, si ha studiato e si sa quello che si deve fare non può che andare tutto bene. Ovviamente diciamo che si acquisisce... c'è chi ce l'ha naturale. Allora si va sempre un po' nella psicologia anche qui perché succede spesso a tutti, anche a me è successo, di fare magari qualche acuto. Ad un certo punto succede qualcosa in una prova o in una recita in cui quello acuto non è venuto come noi vorremmo... come sarebbe dovuto venire diciamo. E si crea un blocco mentale perché ovviamente quello che ci succede è uno shock mentale per cui il corpo si difende e quando sta per arrivare quel momento ci si difende. Un po' come quando si fa un incidente in macchina. Quando si passa per quel... anche se uno fa l'incidente rimane scioccato, a tutti penso sia successo. Quando si passa per quel punto dove è successo quel momento lì, sempre delle volte successive si ha... questo, oddio speriamo... il cervello va in automatico. Quindi bisogna superare quel momento lì di blocco della paura. La paura non deve bloccare il nostro canto. E questo si fa... la cosa principale, una cosa che tutti abbiamo fatto è alle prove accennare, non cantare gli acuti, evitare il problema. Invece no, è meglio steccare in prova e scardinare le proprie parole durante una prova che non durante la recita. Io ho visto persone che cantano o alla generale direttamente alla recita. No, lì devi già sapere quello che fai. Stecca davanti ai tuoi colleghi, davanti agli altri, ma non davanti al pubblico, ai critici, ovviamente. Quindi è un mestiere il nostro dove ovviamente si è cantanti perché psicologicamente anche si è più sensibili, quindi si hanno tante paure, tante insicurezze. Spesso nel canto si trova l'unica via, non l'unica via d'uscita, una delle vie d'uscite all'espressività, all'essere noi stessi, al... spesso io sono più me stessa magari in un personaggio che interpreto in scena che non nella vita reale, perché lì è filtrato attraverso, non lo so, una rosina, una meris, non so. Quindi il nostro spirito malvagio, comico, buffo, tragico viene fuori attraverso un personaggio, ma sono tutte sfaccettature che l'essere umano ha ovviamente dentro di sé e l'importante è diciamo che trasformare la paura sempre in qualcosa di costruttivo e non qualcosa di distruttivo. Usare la paura per costruire qualcosa, per affrontare il palcoscenico. è molto interessante questo, la parte psicologica è importantissima. Io ho fatto un percorso nella mia vita. Io sono partita dalla prima volta che sono salita su, io cantavo da bambina, cantavo ai matrimoni, suonavo l'organo, facevo di tutto. Poi a un certo punto crescendo si raggiunge una consapevolezza di quanto può essere importante un errore, ad esempio, perché ovviamente man mano che si cresce cominciano ad arrivare le paure, le cose, si prende consapevolezza, responsabilità. Io la prima volta che ho fatto un concerto ufficiale da grande non riuscivo a stare in piedi e fino a tre mesi prima cantavo nelle chiese, facevo i concerti. Ma quando a un certo punto arriva la coscienza e si ha paura, si ha paura perché è anche giusto, la paura è una cosa positiva a volte. Poi è stato un percorso per me che mi ha portato a creare la mia scatola mentale dove nel momento in cui c'è la difficoltà si sta male, si ha paura, la prima alla scala, la prima non so al metropolita, non lo so, con un direttore importante. Ovviamente lì bisogna raccogliere tutta l'esperienza, tutto quello che si è fatto, tutto quello che si è studiato e fare uno dei famosi salti nel buio, cioè non pensare più. Ho studiato, ho fatto, adesso ovviamente metto in pratica quello che ho assimilato e cerco di farlo al meglio. Mai dubitare durante un acuto o durante un passaggio difficile. Se si è studiato, posso pensare alla tecnica, posso pensare a come devo farlo, a cosa devo mettere in moto in quel momento, ma mai dire non ce la farò. No, in quel momento il dubbio non deve esserci. Ma parlando un po' più fisiologicamente degli acuti, l'errore più comune che io vedo quando tratto di lavorare con i giovani cantanti, è che normalmente loro prendono troppo fiato per fare gli acuti, che pensano, non so, che devono prendere tutto il fiato della sala per fare gli acuti. Io sempre gli dico, gli acuti vengono con moltissimo meno fiato di quello che tu prendi. Certo, deve esserci il fiato giusto per arrivare a quell'acuto, è il supporto poi quello che aiuta, perché il tanto fiato ingolfa, a volte così, poi non canto più. Ovviamente anche quello fa parte dell'allenamento, di sapere quanto a me può servire. A volte ci sono acuti presi che devono essere lunghi, per esempio gli acuti di Rossini a volte arrivano da delle scale, e lì bisogna dosare il fiato, bisogna, è tutta una questione di, per fare anche un acuto pure semplice di per sé non è che serva tutto il fiato del mondo, basta che il fiato sia usato nel modo corretto, questo sì, questo sì, altrimenti appunto si rischia di ingolfarsi, di bloccare tutto. Sì, sì, perché per noi, per gli insegnanti è difficile, perché a volte loro non ci credono, perché quando ascoltano i cantanti di fare, non so, me ne ricordo un tenore che mi diceva, ma quando io ascolto Corelli che fa quegli acuti, non può essere che li faccia con poco fiato. Sì, lo fa con poco fiato, non poco, ma molto meno di quello che tu pensi. Certo, e a volte appunto si prende anche tanto fiato, a volte dura anche meno, perché in realtà non è che si prende tanto fiato, si fa, si prende con forza a volte, non serve, non serve, non serve, cioè non serve. Sì, è vero, è vero questa cosa che si pensa che... Lo sai, ci sono di quelli insegnanti che dicono, no, negli acuti, spingi, spingi, oh mamma mia, devi spingere di più, anzi, no, 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 l'acuto non può spingerlo perché... Altrimenti non, o viene dritto, si stecca, sì, io ho visto perdere la voce in tre minuti, no, no, tre minuti, due secondi, per acuti presi male, con, io mi ricordo, non dico né dove né come, ma una prova, questo soprano che ha fatto dei do senza scaldarsi la voce, aveva dei do, lei l'ha fatto, ha fatto, fine, perché ha spinto, perché ovviamente non l'avendo scaldato, ha spinto, poi lei è andata dal foniatra, mi ha mostrato la lingoscopia che ha fatto, sembrava che le corde fossero state prese col martello, così, io ho detto Dio mio santo, ecco, quindi non mai spingere, mai, mai spingere l'acuto, assolutamente no, perché o viene dritto, o si stecca, o ci si fa male, quindi no. Grazie. Grazie. Grazie.